Parliamo ancora di violenza sulle donne. Si avvicina il 25, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. C'è in Sicilia la presentazione di una campagna di prevenzione. Interviene anche la ministra Lamorgese. 8 in Sicilia dall'inizio del 2021, 103 in Italia. Secondo l'ultimo report della Direzione Centrale Anticrimine, nell'ultimo anno gli omicidi di donne sono aumentati del 3% e il 10% dei femminicidi avviene in Sicilia. Nell'isola le donne denunciano e chiedono aiuto al 1522, il numero antiviolenza, dove arriva più di una chiamata al giorno, ma qui il sistema non sembra in grado di ascoltarle. La legge contro la violenza di genere approvata dall'Assemblea regionale siciliana nel luglio del 2020 è ancora ferma e i fondi stanziati restano nelle casse e non sono ancora stati spesi. E oggi a Catania, a presentare la campagna di prevenzione contro la violenza sulle donne, questo non è amore, giunta alla sua quinta edizione, è arrivata la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. In Sicilia le donne vittime di abusi, rivela l'Istat, sempre dall'inizio dell'anno, sono state 452, mentre al numero di emergenza hanno chiamato 760 utenti che hanno denunciato situazioni di violenze vissute da altri. La violenza sulle donne è trasversale, non c'è classe sociale che risulti indenne. E nel 62% si tratta di casi di maltrattamenti in famiglia, dove l'autore è il marito o l'ex compagno.